Chiedo ora a Michele Boldrin che è uno degli autori del manifesto di intervenire. Buongiorno a tutti, scusate il ritardo e l'apparizione all'ultimo momento dovuto infatti a mancanza di liberalizzazione. Alla stazione Tiburtina la competizione mi ha fatto arrivare in orario, anzi perfetto orario sulla competizione, non facciamo pubblicità non retribuita, però non c'erano i taxi, c'era una coda ovviamente, quindi nella scelta non c'erano i taxi. Grande stazione, capitale, grande paese, non ci sono i taxi. Allora, parlando dell'argomento liberalizzazioni, volevo fare due riflessioni brevi su alcuni dei punti su cui noi insistiamo e che vengono ricepiti dall'opinione pubblica come più ostici e più forse difficili a digerire, strani, velleitari se volete. E danno a che fare con il problema della vendita di parte del matrimonio pubblico per ritirare in cambio dei proventi debito in essere e quali sono poi queste spese pubbliche che si possono tagliare. All'inizio della settimana sono stato qui a Roma a vari incontri, quasi tutti con studenti, alcuni entusiasmanti per il numero di persone e per la partecipazione. Un altro più interessante perché dovendomi confrontare con un ex ministro delle finanze, un ex alto funzionario dello Stato e professore, sulle questioni di spesa pubblica, il dialogo è stato rivelatore, di nuovo diciamo il peccato, mettiamo il peccatore, ma è un signore che sosteneva che l'IRAP l'aveva fatta perché... Ups, scusate, volevo dire che era stata fatta, ma con l'italiano vado male, per ridurre il costo del lavoro. La cosa interessante della discussione è stata la seguente, tutti riconoscevano, c'era un completo ambasso nu sul fatto che si bisognerebbe tagliarla. È effettivamente alta, implica un carico fiscale oramai non sopportabile da chi le tasse le paga. Lo sono reso conto ora, sì che... Implica un carico fiscale chiaramente non sopportabile da chi le tasse le paga, per di più questo carico fiscale, essendo stato disegnato a pezzi e bocconi, in maniera irrazionale, un po' predatoria, in cui è stato disegnato, essendo praticato la sua estrazione in maniera ancora più predatoria, danneggia le parti più produttive dell'economia e crea questi incentivi per evasione fiscale, ingiustizie, di cui tutti sappiamo. Quindi tutto vero, il problema c'è. E non è neanche vero che a fronte di questa grande spesa otteniamo poi questi grandi servizi, anche quello. Però è impossibile tagliarla. Non c'è voce. L'argomento generale, guarda, no, cioè, voi la fate troppo semplice, Zingales, Giannino, De Nicola, Stagnari, li nominano un po' tutti, Brusco, che poi il teorico e la counta, quello che sa la differenza tra 0,2 e 0,3 nel bilancio dello Stato, ma non si può tagliare fondamentalmente niente. Questo era l'argomento. E quindi, siccome non si può tagliare niente, che ci possiamo fare avanti così e aumentiamo un po' le tasse. E allora uno dice, vabbè, ci ho provato, gli ho fatto l'elenco, non riuscivano a sommare. Allora, lasciatemi riprovare con due voci, due. Una che appare esplicitamente nel bilancio dello Stato ed è molto rapida, gli dedicherò solo qualche minuto. Più che altro, polemica politica e promemoria nel caso ci sia qualche giornalista in sala che volesse ricordare al popolo italiano questi fatti. E l'altro un ragionamento un po' più articolato. La prima si chiama sussidio all'impresa, la seconda si chiama fondazioni bancarie. Allora, a me sorprende che Squinzi, presidente Confindustria, circa, ora sono due settimane, due settimane e mezzo, se ne esce. E credo per la prima volta, non sono uno storico attento di Confindustria, ma credo per la prima volta, nella storia di quell'associazione, di quel sindacato, dice, basta, ci avete tassato così tanto la situazione che siamo disposti. Vabbè, toglieteci tutti, togliete alle imprese tutti i sussidi, purché in cambio ci sia una riduzione più o meno equivalente di imposte. Silenzio. Io non aspettavo passi ad alzare la mano, sono qua, ce l'ho pronta, l'ho già scritta, grazie, adesso siamo tutti d'accordo. No, silenzio. Silenzio non solo dal governo, silenzio da tutte le parti. Poi, guarda caso, giusto negli stessi giorni, ricomincia la storia Alitalia, un'impresa notoriamente sussidiata. E di cosa stiamo parlando con Alitalia? Stiamo parlando di ulteriori sussidi da aggiungere a quelli pregressi. Perché? Per tenere in piedi un'impresa che tutti lo sanno, e bisogna dirlo qua a Roma, non funziona. E non funziona perché è organizzata male, gestita male, è dove la gente segue regole di organizzazione del lavoro, pratiche, che non sono più quelle in atto in tutte le altre imprese concorrenziali del trasporto aereo nel mondo. Punto e basta. Chiunque voli sa benissimo la differenza di trattamento, di comportamento, di orario, di tutto, fra Alitalia e gli altri. Quindi la ragione per cui Alitalia c'è gli aerei vuoti e va male è quello. L'unico posto dove ce li ha piedi è sulla Milano-Roma, perché c'è di fatto il monopolio, altrove la gente sceglie altre cose. E noi dovremmo sussidiarlo. Allora, non solo sono due punti, non solo questo governo ignora di aver messo un signore, se non mi sbaglio, Francesco Giavazzi, vecchio professore, a fare i conti, c'è tutto il rapporto pubblico, gira i calcolini. Quindi dove sono questi sussidi? Lo sappiamo, in un certo senso la relazione tecnica quasi c'è. Non dovrebbe essere così difficile farlo questo decreto legge, questo disegno in legge. Allora uno si chiede perché non viene fatto. Non viene fatto perché quando uno pensa ai sussidi si rende conto che non vanno all'impresa media. E men che meno vanno all'impresa piccola o media. Non vanno alla generica impresa italiana che produce, compete, magari riesce anche a far profitti. Vanno a un gruppo estremamente ristretto di carrozzoni di Stato, ex-carozzoni di Stato, i quali si reggono sugli impresi stessi. E il problema lì è non solo che così facendo distorcono la concorrenza, per esempio, quella di cui ho usufruito oggi, ma la ragione per cui vengono tenuti lì. Ed è questa la parte tragica che occorre spiegare alla gente. E' perché questi non sono beni pubblici, beni comuni, questa nuova parola che ha cominciato a girare, che sembra così buona, che ti fa sembrare all'Italia un bene comune. Ma dove? E' un male comune. Non sono un bene comune. Se lo sono, sono un bene comune di chi la politica la controlla. Perché il fatto che appartengano al popolo non vuol dire niente. Alla fine sono delle cose in cui metti gli amici tuoi. E' la ragione per cui questa classe politico-burocratica... Non voglio strappare... Cioè, davvero, il concetto... Bisogna spiegare alla gente che è la ragione per cui questa casta politica-burocratica non vuole smettere di sussidiare queste imprese. E non vuole, che so, privatizzare Eni, per esempio, vendere il pacchetto di controllo in maniera decente e intelligente sul mercato, guadagnandoci dei soldi e recuperando debito a fronte. Non è per nessuno di questi buonismi che veniamo a uscire. O per le affermazioni strane di Vittorio Grilli, che dice, no, lo facciamo, è vero, non è strategico, lo facciamo per i dividendi. Perché ci serve il cash flow. Vittorio, ha un cash flow che ti rende il 4% sul capitale di borsa, tu paghi il 6% sul debito e te lo vuoi tenere. Ma insomma, dai! Inventiamocene un'altra. Allora, non sono quelle le ragioni. Le ragioni è per mantenere un sistema di potere. Perché sono strumenti utilissimi per creare posti di lavoro alto livello, i quali a loro volta creeranno una catena, una piramide, chiamatela come volete una cascata di liquame, di favori reciproci. Quando cominci ad averlo su imprese delle dimensioni di Eni, Enel, Finmeccanica, eccetera, 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 effettivamente i dipendenti di Trenitalia mi dicono che sono ancora 110 mila circa. Stiamo parlando di una base elettorale. Questa è la ragione. E questo va spiegato alla gente, che non ha niente a che fare con la difesa. I sussidi da un lato e il mantenimento del controllo sulle imprese dall'altro, entrambe queste cose, due grandi strumenti per ridurre spesa pubblica e tasse, non vengono nemmeno presi in considerazione da questo governo, dai precedenti e da quelli che capisco, dai futuri dovessero vincere i partiti tradizionali, dovessero vincere UPD, UPDL, chi volete voi, UDC, UDC poi prima è sopra tutti, mi sembra la parrocchia di questi qua, sia chiaro, dovessero vincere loro, siete sicuri che, non lo so, ma no, forse privatizzeranno una vendendo la cassa depositi e presti in cui verrà messo l'amico della sorella di letto del terzo marito di qua, cioè, cugino. Bon, quello è il punto. E questa è la cosa, va spiegata, davvero, va spiegata. Poi le fondazioni, invece, mi è venuta in mente la questione perché sono stato in Toscana, e sono stato anche a Siena, e lì uno riflette, un giornalista mi ha intervistato, non so se ha pubblicato la cosa, gli ho chiesto, guardi, per una volta, visto che i titoli li fate sempre redazionali, tendete a mettere in bocca la persona intervistata all'opposto di quello che poi nel virgolettato cinque righe più sotto c'è, lei non soffende se glielo faccio io il titolo, per cui glielo faccio scandaloso, così è contento. Ma ha detto, va bene, Boldrin dice la crisi economica è responsabilità delle fondazioni bancarie, per favore, lo metta. Davvero? Dico, sì, lo metta, bisognerebbe mettere la percentuale, adesso non è un titolo, ma possiamo mettere, perché faccio il professore, ma fino a un certo punto, e la metta così dopo, la spieghiamo sotto. E perché lo è? E davvero, questo sono serio. Pensate un po' perché. Fondamentalmente, l'Italia, come la Spagna, su questo siamo letteralmente nelle stesse, in due barche molto simili, pieni di buchi. La recessione pesante, ennesima, in cui ci troviamo in mezzo, nulla a che fare con la caduta della domanda dei consumi, infatti basta guardare i numeri, i consumi sono appiattiti, ma sono caduti. Sono caduti gli investimenti, ed è caduta la capacità del sistema di generare credito, e dare credito a chi gli investimenti lo fa. Quindi a questa cosa, che usando termini inglesi, chiamano credit crunch, in italiano, crisi del credito, suppongo, cioè la difficoltà del sistema bancario di dare credito a prezzi ragionevoli tali che le imprese riescono a farci un profitto e darlo nella quantità adeguata prendendosi rischi adeguati. Questo, qui come lì, adesso lasciamo starla a Spagna, viene da che cosa? Viene dal fatto che una grande fetta del nostro sistema creditizio è in profonda difficoltà patrimoniale, ha un patrimonio che essendo stato mal investito, soprattutto in titoli di Stato, ha perso di valore, quindi ha ovviamente una debolezza di capitale, ha un capitale proprio basso, che si riflette nelle quotazioni di borsa, e come voi ben sapete non è il caso che ci sono ragioni prudenziali ad libitum, per cui una banca che ha un basso capitale proprio di rischio deve evitare di esporsi sul mercato del credito con grande liquidità, offrendo grande credito, specialmente se il credito è rischioso. E effettivamente per quanto possa non sembrare è leggermente più rischioso prestare soldi all'imprenditore piccolo o medio che comprarsi i buoni del tesoro. Alla fine una tassa qua una tassa là i buoni del tesoro default non lo fanno. E questo è quello che le banche italiane stanno facendo. Però perché non si ricapitalizzano? Ve lo siete chiesti? Perché non c'è una pressione politica mediatica? Il nostro amico e cofondatore Luigi Zingales è uno dei pochi che ci insiste Luigi che mi guarda spero di non averti tolto l'argomento perché nel caso puoi elaborare perché non lo fanno? Perché non si ricapitalizzano? Beh non si ricapitalizzano perché le fondazioni le svariate fondazioni e lì mi ha fatto riflettere questo giornalista che chiamiamo bancaria vi rendete conto? Ci sono le fondazioni bancarie in Italia dovrebbero essere delle fondazioni benefiche invece sono delle fondazioni bancarie è una cosa unica nel mondo solo noi abbiamo le fondazioni bancarie il cui compito è controllare il sistema bancario italiano invece di far del bene che invece è la ragione per cui le fondazioni non profit dovrebbero essere che io sappia aiutare i vecchi i poveri i ragazzi che devono andare a scuola le borse di studio riparare la chiesa dell'assunta che c'è il campanile che crolla a questo servono le fondazioni quando fanno il loro lavoro invece questi si occupano di fare i banchieri poi fanno anche dichiarazioni quando passano da sindaci a padroni alla banca dicono adesso imparo un lavoro nuovo a 70 anni ma dove? ma dove? vabbè no no è molto entusiasmato adesso farò il grande banchiere fino a loro ho fatto l'amministratore comunale però adesso farò il grande banchiere è una cosa io sono unico allora la ragione per cui le nostre banche non si ricapitalizzano è questa che le fondazioni bancarie gestite dalla classe politica italiana anzi dei residui della classe di quella che tutti chiamano la prima repubblica poi è la stessa cosa e la seconda controllando le banche non avendo una lira non hanno assolutamente nessun desiderio di ricapitalizzarle perché per ricapitalizzarle dovrebbero andare sul mercato dovrebbero cercare chi i soldi ce li ha chi è disposto a investirli in azione in capitale di rischio ovviamente se uno che sa fare il proprio lavoro e c'ha due lire e magari pensa che da Unicredit da Intesa da Montepaschi riesce a farla funzionare stracci un profitto dice beh guarda io i soldi li metto te li metto anche extra perché mi cedi il controllo però mi cedi il controllo dopo l'amministro io il Montepaschi non l'amministri tu non te lo scegli tu l'amministratore delegato questi non ricapitalizzano però rendetevi conto l'effetto drammatico questo forse è lo scandalo macroeconomico più grave perché ci sono maniere di far star male la gente in dirette che sono molto peggio di quelle dirette qui abbiamo una situazione in cui un gruppo di forse 500 600 persone in giro per l'Italia che controllano il sistema bancario il nome per conto del sistema politico attraverso le fondazioni generano una recessione che probabilmente potrebbe essere stata un punto e mezzo minore cioè invece di crollare del 2,6 avremmo potuto andare giù che sono del meno 1 del meno 0,8 quindi perdendo decine di migliaia di posti di lavoro di meno perdendo centinaia di milioni di reddito di meno generano una recessione di questa dimensione puramente perché devono mantenere il controllo del sistema bancario italiano questa è nient'altro che la pura sacrosanta verità e in maniera molto anticlimatica anche perché credo di aver esaurito i 15 minuti a mia disposizione mi fermo qua andiamo in giro raccontiamole queste cose alla gente spieghiamole la devono capire il danno che questo sistema politico sta facendo è veramente grave e profondo e si misura in cose di questo tipo grazie grazie a tutti grazie grazie a tutti